Allora, io riprenderò la parola dopo l'intervento del direttore del dottor Girardi, a cui lascio la parola, ovviamente parliamo della questione legata ai vaccini, di questa accelerazione che abbiamo avuto nelle ultime ore, prego. Buongiorno a tutti, devo dire che ieri abbiamo dato una brusca accelerata alla campagna vaccinale perché siamo passati da oggi a circa 5.000 vaccini al giorno in provincia di Verona e l'abbiamo fatto grazie anche alla collaborazione che in questo momento si è estesa con l'azienda ospedaliera, poi progressivamente nei prossimi giorni invece aumenterà ancora di più con l'intervento anche dei medici di medicina generale. Questi 5.000 vaccini che oggi facciamo mediamente al giorno diventeranno già più o meno verso il giorno di Pasqua, a 8.000 forse anche di più. Ieri abbiamo quindi creato delle giornate vaccinali aggiuntive e ovviamente per riuscire a far sì che la popolazione potesse prenotarsi ci siamo adoperati nell'utilizzo di una piattaforma di prenotazione che già utilizzavamo per esempio per alcune categorie, gli insegnanti utilizzavano quella piattaforma e abbiamo dato la possibilità agli ultraottantenni che ancora non avevano una prenotazione o che avevano in qualche modo non potuto usufruire della giornata che gli era stata assegnata di prenotarsi. Con quali vaccini? Con quelli che avevamo a disposizione, quindi in quel momento avevamo a disposizione Pfizer e AstraZeneca e le abbiamo messe a disposizione. Ad oggi abbiamo circa una dotazione di 30-35.000 vaccini, dico 30-35.000 perché sono in corso di consumo quindi stamattina erano circa 35.000 ma a fine giornata saranno 30.000. Martedì arriveranno degli ulteriori vaccini e se fate i conti manca giusto una settimana quindi noi martedì finiremo i vaccini. Mercoledì, con la consiglia di martedì, potremo riniziare a vaccinare. Venerdì, presumiamo, metteremo a disposizione della popolazione prevalentemente ancora nuovamente ultraottantenni la possibilità di vaccinare. Questo varrebbe per Verona ma varrebbe anche un po' per tutta la provincia, in tutti quanti i nostri centri vaccinali. Con quali vaccini? Con quelli che abbiamo a disposizione. Perché li finiamo, appunto. Che cosa succede? Fino ad oggi abbiamo agito convocando le persone con una lettera che arrivava attraverso Postel. Dando chiaramente questa possibilità di prenotazione attraverso la piattaforma, superiamo questa prima fase. Alla volta di lunedì cercheremo di verificare tutte le persone che non si sono vaccinate, ultraottantenni. Faremo la differenza tra chi si è vaccinato e chi è nella nacrefe sanitaria. E grazie alla collaborazione anche dei comuni faremo comunque arrivare a casa una nota, una vocazione per le persone che non hanno potuto accedere alla piattaforma digitale. Ecco, qual è il compito anche un po' vostro nel mondo della comunicazione? Rendere nota questa cosa che comunque già ieri, poi vi dico, è stata più che utilizzata. perché ieri abbiamo messo a disposizione della popolazione 1600 vaccini, ieri sera verso le 5 abbiamo aperto più o meno la sessione, alle 8 e mezza 800 vaccini Pfizer hanno già stati tutti quanti prenotati e circa il 30-35% dei restanti di Astra hanno prenotati. Stamattina alle 8 e 40 tutte quante le dosi di vaccini erano state prenotate, quindi io confido che questo sia uno strumento assolutamente fruibile anche grazie alla collaborazione di tutti quanti i parenti chiaramente degli ultraottantenni, ma mi hanno chiamato un po' di associazioni che ci sono adoperate per prenotare, i sindaci hanno svolto un ruolo di diffusione capillare perché il primissimo strumento che abbiamo utilizzato è stato proprio il coinvolgimento delle amministrazioni comunali che sono state prese anche loro, devo dire, e mi scuso, quasi disprovvista perché ho fatto qualche telefonata per preannunciarla, ma l'obiettivo prioritario in quel momento era dare la possibilità agli ultraottantenni, che sono il nostro primo target di popolazione insieme a tutto il mondo della disabilità, di poter essere vaccinati. Quindi io anche mi scuso per l'operazione che abbiamo fatto in qualche modo un po' tempestiva, alcuni di voi magari li ho anche chiamati per telefono per avvertirli, per darci una mano proprio nel pubblicizzare quest'operazione, che devo dire è assolutamente riuscita bene. Un po' di avvertenze, ma poi le ripeterà anche il sindaco perché sono importantissime perché la campagna vaccinale va davanti bene. Stiamo passando da un momento in cui i numeri erano in qualche modo controllabili, quindi come se fossimo un po' una piccola azienda artigianale, a invece una vaccinazione che via via diventerà sempre più di massa. Lo faremo attraverso delle fasi, ma insieme, è la prima esperienza che facciamo un po' tutti nella nostra vita, dobbiamo imparare a gestirla al meglio. Allora la primissima raccomandazione che mi sento di fare è a tutto quante le persone che arrivano nei nostri centri vaccinali, che diventeranno anche diversi perché arriveremo anche a vaccinare in macchina prossimamente, arrivate all'ora della convocazione. Perché chi arriva con un largo anticipo provoca assembramento e non solo, provoca anche poi difficoltà nel dare la giusta priorità a chi aveva la prenotazione, perché chiaramente se si crea la fila delle macchine e io cerco di arrivare all'orario giusto, mi trovo davanti a tutti quelli che sono arrivati prima e difficilmente riesco a arrivare in loro in cui sono stato prenotato. Quindi questa è la primissima attenzione. Poi naturalmente tutte le attenzioni che normalmente utilizziamo anche quando andiamo al supermercato, quindi cerchiamo di rispettare le distanze, disinfezziamoci le mani e così via. Nel corso delle prossime giornate sicuramente cercheremo di sperimentare anche delle soluzioni che via via renderanno anche la procedura di vaccinazione la più consona possibile all'afflusso, quindi cercando di sveltire alcune operazioni che oggi stiamo comunque cercando via via di perfezionare, contando quindi di riuscire anche, grazie all'apporto decisivo, importantissimo che ci sta anche con i medici di medicina generale, di aumentare i punti dove la popolazione potrà essere vaccinata. Questo vale sia per Verona, ma vale soprattutto per quanto riguarda la provincia, perché in molti comuni dove oggi noi non vacciniamo, potremo, grazie all'ausilio dei medici di medicina generale, arrivare oltre che al domicilio delle persone fragili, cosa importantissima, anche in centri vaccinali comunque a disposizione di ogni singolo comune o quantomeno dei reclupamenti di comuni molto vicini. Mi sembra di aver detto tutto, poi dopo che hai parlato tu eventualmente se mi viene in mente qualche cosa. Allora io aggiungo il ruolo del comune. Allora la disponibilità che ho dato, mi sono già sentito, ho fatto un briefing stamattina con il comandante Altamura, quindi con la polizia e la protezione civile. I temi oggi sono due fondamentalmente. Il primo è che questa accelerata che è stata data, adesso siamo andati con alcune volanti, è da gestire un attimo perché, e questo è il primo richiamo, ripeto quello che ha detto il dottor Girardi, chiedo a tutti veramente di andare all'ora della prenotazione, pochi minuti prima, perché sennò è naturale che se uno va con largo anticipo crea un tappo a quelli che invece arrivano giusti, cioè si crea al di là dell'assembramento in epoca pandemia, si creano quelle code che poi determinano poi lunghe attese, sono persone anziane, quindi questo non va bene. Il secondo tema. Allora, fatta questa prima accelerata, fatto quello che verrà fatto nei primi giorni della prossima settimana, arriveremo ad un certo punto in cui ci sarà un delta di anziani nati tra il 1930 e il 1937 che non saranno ancora stati vaccinati, perché qualcuno si sarà prenotato ieri, in questi giorni, farà parte di questa brusca accelerata. Finita l'accelerata ci fermeremo e vedremo che di quei 12.000 anziani nati tra il 1930 e il 1937 ne saranno rimasti da vaccinare 3.000, 4.000, 5.000, quelli che saranno. Allora, io al comandante Attamuro ho detto, noi adesso ci inseriamo in modalità uragano, cioè non partiranno più le lettere, ma andranno le nostre volanti, la nostra protezione civile, i nostri gruppi motorizzati a portare una a una a casa le lettere con la prenotazione agli anziani che rimangono da vaccinare. In tempo reale, modalità consegna mascherine dell'anno scorso, modalità consegna buoni spesa dell'anno scorso, modalità, io l'ho chiamato uragano, nel senso che dovremmo essere tempestivi, veloci ed avere in campo tutte quelle forze che abbiamo utilizzato nel corso dell'ultimo anno, laddove, vede il giorno dell'uragano, abbiamo avuto la necessità di avere tutte le forze in campo. Perché io voglio che una volta che l'AUS mi comunicherà che saranno rimasti X migliaia di persone anziane da vaccinare, nel giro di pochissimo andremo a portarle una a una a casa di ognuno, con il luogo, la stessa lettera che sarebbe arrivata a mezzo posto. Provo perché, come avevo già anticipato nelle settimane scorse, a fronte di un ingente numero di vaccini che sta arrivando, che è quello che chiedevamo tutti, dobbiamo essere altrettanto celeri nel convocare le persone. Allora, visto che tanti sistemi possono più o meno funzionare, insomma, visto in giro, io ho ritenuto che la consegna a mani, fatta casa per casa, sia la più sicura e la più veloce che riusciamo a fare, mettendo in campo tutte le forze necessarie per farlo. Quindi, il messaggio che voglio dare è anche di tranquillità a quelle persone che non sono riuscite a prenotarsi perché non sono arrivate in tempo rispetto al lancio dell'accelerata di ieri, a quelle che non riusciranno a prenotarsi nei prossimi giorni perché non arriveranno in tempo, perché banalmente non hanno il figlio, il cugino, il nipote che è in grado di smanettare su un computer e di prenotare online, dico state tranquilli perché vi arriverà a casa la volante della polizia locale, anziché il gruppo della protezione civile che vi porterà direttamente la lettera con la convocazione il giorno della prenotazione per fare in modo di esaurire tutti gli ultraottantenni, siamo partiti dal 41, quindi dal 41 a meno infinito praticamente, nel giro di poco tempo. Ovviamente sempre stando in stretta collaborazione con i file che ci fornirà la ULS delle persone che mancheranno e in virtù anche dei vaccini che saranno disponibili, perché ovviamente poi quello è fondamentale. Quindi la tranquillità deriva da questo, non è che chi rimane fuori, perché io mi immagino e mi metto nei panni e chiudo della persona anziana che mi guarda i telegiornali, mi ha scritto uno stamattina che gli ho detto, mi ha rappresentato alcune sue problematiche, gli ho detto scrivi una mail, non ho il computer e il matto fiore è via, mandami un messaggio che verifico e ti dico come fare e abbiamo tanti anziani che però magari tutti, se non è certo, guarderanno la televisione, leggeranno il giornale domani mattina, ecco vorrei che il messaggio che passasse fosse questo, state tranquilli perché se non ce la fate da soli arriviamo noi a portarlo a casa. Ecco su questo voglio aggiungere anche una cosa, lo dico in forma in qualche modo che non vale solo per la provincia di Verona, la regione sta predisponendo una piattaforma un po' simile, se volete anche quella che già a Verona abbiamo utilizzato per quanto riguarda la prenotazione dei tamponi, fondamentalmente la stessa identica procedura, sulla quale si potrà accedere per prenotare il vaccino, non solo, si potrà utilizzare la modalità telefonica per prenotare la vaccinazione e quindi un po' come stiamo dicendo adesso la popolazione deve stare tranquilla, i vaccini stanno arrivando, stanno iniziando ad arrivare in modo copioso, tanto è vero che abbiamo potuto fare questa brusca accelerata, dalla prossima settimana e da dopo Pasqua ancora di più accelereremo e avremo la possibilità di poter accedere al vaccino per fasce di età online e telefonicamente, quindi avremo la possibilità veramente di accedere molto più facilmente di adesso, dove se c'è il vaccino non c'è lo strumento per poter prenotare e così via, quindi veramente arriveranno anche nuovi vaccini perché Johnson & Johnson sembrerebbe pronto anche all'arrivo in tempi relativamente veloci, abbiamo garanzie che le forniture dei vaccini che in questo momento sono a disposizione aumenteranno progressivamente dalle prossime settimane, quindi sembra che stiamo uscendo dalla tunnel. Allora se non ci sono domande qua io ne ho una girata da un collega che è in streaming, Luca Mazzara dell'Arena per il dottor Girardi che dice stamattina in fiera proprio per effetto dell'accelerata, nonostante l'appello appena fatto dal sindaco non andate là tanto in anticipo, il collega dice ci sono invece persone che sono arrivate in orario e che invece sono rimaste i novantenni in coda e file lo stesso stamattina. Già che ci sono le faccio tutte e due, poi un'altra domanda, quindi casomai gli avvertimenti da dare, la domanda per il sindaco invece è se il numero verde covid del comune se è ancora in funzione anche per questa cosa qui, se ha avuto telefonate in questi giorni di informazione e se funziona anche nei prossimi giorni. È un po' quello che prima si accennava, l'inizio delle vaccinazioni è alle 8 e mezza, il nostro personale arriva alle 8 e inizia a fare la preparazione dei farmaci che come sapete ha una scadenza anche oraria. Mi risulta da quello che hanno detto i colleghi che erano là, stamattina io non ho fatto in tempo andare perché ero in video con la regione, che prima delle 8 c'erano le file. Allora prima delle 8 rispetto al primo appuntamento che è 8 e mezza, sono già tre quarti d'ora prima. È chiaro che chi arriva dopo iniziamo da essere dietro quelli che sono già arrivati prima, ecco questo è un po' quello che si vorrebbe cercare di evitare, vedere un po' l'appello che stavo cercando di fare prima. Era il primo giorno, ecco io mi sento di dire questo, il grande incremento e soprattutto la modalità di prenotazione che era diversa probabilmente ha generato questo intoppo che mi auguro che già domani, anche grazie a quello che stiamo dicendo adesso e anche grazie al lavoro di voi giornalisti, domani possa essere evitato. Sì, tra l'altro su questo io adesso tra un po' mi reccherò anche io personalmente in c'era per andare a vedere un attimo e capire anche le criticità. Io chiedo anch'io nei confronti della US che ha dato questa accelerata, lo chiedo nei confronti dei cittadini, nel senso di avere, capisco che per una persona novantenne comunque poi chi c'era stamattina c'è andato stamattina. Ma è chiaro che passare come diceva prima Pietro da una ditta artigianale a una grande azienda che fa numeri completamente diversi, l'impatto stamattina anche per quelle cose che abbiamo detto prima del fatto di chi arrivava in orario, perché è vero, per rispondere a Luca Mazzara, è vero che qualcuno probabilmente è arrivato in orario, ma il problema è quello che dicevamo prima, per chi è andato in fiera a fare i vaccini, se tu arrivi in coda e davanti hai 20 macchine, tu se arrivi in orario, ma davanti hai 20 macchine di quelli che devono arrivare un'ora dopo di te, alla fine arrivi in ritardo anche te e si sfasa tutto il giro, perché il problema è che quelli che arrivano in netto anticipo, mettono in ritardo quelli che arrivano invece in orario, allora non è che bisogna avere la precisione svizzera, si dice un quarto d'ora, 20 minuti prima dell'appuntamento, non un'ora prima, non un'ora e mezza prima, perché non funziona, perché magari giustamente e legittimamente uno può pensare, vado la prima che così sono sicuro, invece no, avendo l'orario, e forse perché non siamo abituati a questa tipologia di attività così precisa, avendo l'orario, quello è il tuo orario, quindi non c'è bisogno che vai là un'ora e mezza prima, perché viceversa crea un problema. Però adesso vado per capire se già nella giornata di oggi e poi soprattutto domani mattina a portare dei correttivi, insomma migliorare quello che possiamo fare come amministrazione e come fiera. I numeri sono ancora attivi, adesso sinceramente non li ricordo, ma ci sono, cerchiamo di dare ovviamente ieri i nostri centralini, sono stati, non dico intasati, ma sono stati presi d'assalto, perché tra l'altro ieri in collegamento con Pietro Gerardi facevamo le prove subito, e anche lì il sistema nel momento in cui è partito ha avuto qualche piccolo intoppo iniziale, quindi a quel punto chi non riusciva ad entrare telefonava numero verde, telefonava regione. Insomma, io quello che chiedo è che ieri è stata una partenza, veramente, io ho dato la comunicazione, dopo cinque, mi è stata una telefonata da Pietro che ho detto guarda che stiamo facendo questa cosa, dacci una mano a comunicarlo. Adesso che entriamo a regime, io sono certo, perché questo è l'impegno che mi prendo, di fare in modo che vengano vaccinate il maggior numero di persone possibile, nel più breve tempo possibile, lasciando tutti tranquilli che la lettera arriverà a casa, e anche facendo in modo, come è stato fatto, riconosciuto praticamente da tutti in questi giorni, con un'organizzazione perfetta. Adesso abbiamo inserito un'accelerata, dobbiamo ritararla un attimo e rimetterci un attimo con le tempistiche giuste.